È arrivata l'estate e la macchina del mio papà non vede l'ora di andare in vacanza. Ma prima deve essere promossa. I maestri le fanno tante domande. La interrogano anche con il computer. Papà dice che fanno gli esami e che non si paga. Quando alla fine la promuovono siamo tutti felici perché si parte! Safety Control. La sicurezza fa strada. Fino al 30 settembre sei controlli gratuiti nelle officine Fiat, Lancia e Alfa. Grazie a tutti.